Meraviglioso! sensazionale miracoloso da oggi c'è una grande scoperta nel mondo delle pubbliche relazioni che cambierà radicalmente le giornate di colleghi dirigenti amici amanti e perché no familiari non assumete mai gente troppo sicura di sé se volete rimanere saldi sulla vostra poltrona è sempre utile in qualsivoglia consorzio umano qualcuno che si senta in colpa ma mi raccomando bisogna esser certi che questo individuo di colpe non ne abbia veramente così lo si potrà accusare di qualsiasi cosa e lui chiederà addirittura scusa sentendosi naturalmente in colpa vi basterà ogni tanto gratificarlo con una pacca sulle spalle fingere per pochi attimi pochi attimi pochi 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 attimi empatia e sarà vostro per sempre è fondamentale sapere come costoro siano soggetti molto utili nel mondo del lavoro idonei in tutti i rapporti di coppia indispensabili nel lavoro di squadra ad esempio se la mattina il capo trovasse il suo computer che fa le bizze avrà sempre a disposizione il numero di quel tale complessato da incolpare far chiamare il centro assistenza e far divertire tutta la compagine analogamente se due persone si amano è scontato che una delle due pratichi di pertinaggio e l'altra creda nei sentimenti e non tradirebbe mai cosa c'è di meglio ogni tanto darle dei nomi per sgravarsi la coscienza e poi in gruppo essi divengono indispensabili qualunque inconveniente si tengano sempre a portare in mano uno o più persone remissive la scienza ha fatto passi avanti nella comprensione dell'animo umano e questa è la più necessaria scoperta per tutti quanti amano il loro potere